ciao lo sai che per avere delle mani super efficienti c'è una strepitosa ginnastica chiamata rudimenti lo sai che i rudimenti sono uno stile di drumming molto particolare hanno una storia pazzesca e sono divertentissimi da suonare e allora resta con me se vuoi sapere come sviluppare la tua tecnica dei rudimenti in maniera spettacolare e in poco tempo ciao sono ruggero pazzaglia il fondatore di the drum booster strumenti per il batterista intelligente e oggi voglio farti vedere come potresti sviluppare al massimo anche tu la tua tecnica dei rudimenti in maniera divertente e in poco tempo per me i rudimenti sono uno stile molto affascinante e molto divertente da suonare ma rappresentano anche una parte fondamentale dello sviluppo dello studio della tecnica della batteria vedi io parto sempre dal presupposto che quando vedo suonare i miei grandi idoli mi accorgo che hanno sempre delle mani incredibili poi quando li senti parlare del loro periodo di formazione o anche di pratica giornaliera nominano sempre questi famosi rudimenti per rullanti come un ottimo modo per tenere sempre efficienti le mani e la mente per cui se vuoi migliorare se vogliamo migliorare dobbiamo prendere esempio dai migliori e allora ecco perché durante la mia fase di formazione ho sviluppato per me e adesso li condivido con te una serie di workout per tenere sempre efficienti le mani usando appunto i rudimenti per rullante allora adesso vieni in studio con me che ti faccio vedere alcuni estratti dalla flam ritual e dal drag ritual che ho compilato io per me e ora voglio metterlo a tua disposizione con questi workout giornalieri sono riuscito a sviluppare un'ottima tecnica delle mani e un controllo dei rudimenti invidiabile e lo usavo tutti i giorni come warm up prima di approcciarmi alla lettura di libri di testo famosi come il wilcoxon il nard il cookbook e altri libri tratti dalla letteratura per marching band la grande forza di questi quattro workout perché sono uno per famiglia drag flam rulli e diddle sta nel fatto che contengono i 40 rudimenti del p.a.s e ogni rudimento viene esposto in suddivisione binaria e ternaria e sei costretto ad eseguirli guidando di arto forte e di arto debole questo vale per tutti i rudimenti ha dimenticavo questi workout non li trovi in nessun libro dato che li ho sviluppati io ma li puoi trovare nel videocorso two hours workout che puoi acquistare cliccando nel link sotto al video in questo videocorso ci sono tutti questi workout completi di pdf e video dell'esecuzione completa ma la grande notizia è che se tu vuoi sviluppare al meglio la tecnica dei tuoi rudimenti e quindi il controllo delle tue mani puoi unirti a noi nelle dirette del mercoledì sera alle 21 e 30 dove eseguiamo tutti insieme questi workout per cui non ti resta altro da fare che unirti a noi mercoledì sera alle 21 e 30 e lo facciamo tutti mercoledì sera alle 21 e 30 per cui per concludere ti rinnovo l'appuntamento a mercoledì alle 21 e 30 in diretta dalla pagina facebook di the drum booster per eseguire tutti insieme in diretta in tempo reale questi workout ok se non puoi partecipare alla diretta di mercoledì non preoccuparti c'è la registrazione sempre nella pagina facebook di the drum booster e nel gruppo strumenti del batterista intelligente ma anche sul canale youtube infine ti ricordo ancora una volta che per avere tutto questo materiale ti garantisco che è tantissima roba basta che clicchi sul link qui sotto quello con la foto di two hours workout e con pochi spiccioli avrai a disposizione una montagna di materiale in pdf e video ci vediamo mercoledì ciao